allora buongiorno oggi iniziamo a parlare del 700 quindi sforiamo da quella che la erano i limiti che ci eravamo imposti per la sezione 1 del nostro esame di estetica quindi estetica 1 quei limiti temporali ma anche contenutistici che avevamo così scelto per contenere la prima parte del nostro esame e andiamo ad affrontare in queste ultime lezioni il il settecento il secolo in cui nasce ufficialmente l'estetica come materia autonoma come materia filosofica autonoma e nasce come ben sapete nel 1750 con un saggio che ha proprio titolo estetica di baumgarten che vedremo poi insomma una delle prossime lezioni in maniera più dettagliata trasforma praticamente studi all'estetica in maniera autonoma nell'ambito delle scienze filosofiche come la scienza della conoscenza sensibile e quindi andiamo ad analizzare in questo secolo l'estetica come la scienza della percezione il termine greco ai stesis significa proprio percepire l'analisi della percezione e delle qualità oggettive che portano all'identificazione del concetto di bello che è stato un po' il leitmotiv la chiave su cui abbiamo condotto tutte le nostre passeggiate filosofiche dai presocratici fino appunto al settecento questo secolo è il secolo della dei lumi della razionalità umana dell'analisi della razionalità umana qui si fa risalire appunto l'origine della capacità di conoscere la natura e anche il cardine la ragione diventa il cardine della della vita sociale e l'estetica in questo percorso assumerà varie insomma accezioni possibili a seconda delle scuole filosofiche settecentesche che l'affronteranno dall'empirismo anglo scozzese che in parte abbiamo già visto con con Locke per esempio all'illuminismo i famosi enciclopedisti francesi l'aufklärung che poi è l'illuminismo la filosofia popolare tedesca e poi anche delle figure insomma secondarie marginali ma che hanno però espresso idee interessanti per il nostro percorso come alcuni pensatori svizzeri per esempio che citeremo poi tra poco quali sono i due termini della della nostra analisi dell'estetica come scienza della percezione della conoscenza sensibile sono due sfere quella dell'autonomia della ragione che è la sfera dell'oggettività l'oggettività che nasce proprio dal pensiero razionale e poi la sfera dell'autonomia della sensibilità che invece è la soggettività delle nostre percezioni sensoriali dei nostri sentimenti mentre la sfera dell'autonomia della ragione ha come così area semantica tanto per usare un termine un po lato la luce i famosi lumi della ragione il la sfera che afferisce invece la sensibilità agisce nell'oscurità intendendo per oscurità la varietà l'incostanza sono tutte quelle caratteristiche che sono proprie della percezione soggettiva quella sensibile quindi ragione oggettività luce da un lato sensibilità soggettività quindi sensi soggettività oscurità dall'altro lato i vari filosofi le varie scuole che vi ho citato prima andranno proprio a riflettere sui rapporti tra queste due grandi sfere tra queste due grandi fette della di questa torta del pensiero umano settecentesco del pensiero filosofico settecentesco hum per esempio partendo appunto dall'oggettività razionale andrà ad analizzare la stabilizzazione la regolarizzazione della vita percettiva ci saranno quelli che invece si concentreranno quei filosofi che si concentreranno sulla storia dell'immaginazione linguistica addirittura dei popoli con una prospettiva più storicistica e che abbiamo erder abbiamo vico in questa in questa sfera ci sarà chi analizzerà i rapporti di continuità tra la sfera della sensibilità e quella della razionalità e qui sull'onda di Leibniz e Wolff avremo appunto il Baumgarten e chi invece andrà a vedere quelle che sono le relazioni ma anche le contrapposizioni tra la sfera della sensibilità e la razionalità considerando entrambi dei poli della natura umana e dell'esperienza e qui avremo Kant che è il vero per la sua sistematicità il vero fondatore del pensiero settecentesco della filosofia estetica nel settecento perché Kant lo vedremo sì che sarà il fulcro insomma delle nostre lezioni sul settecento si concentrerà proprio una delle sue opere più celebri la critica del giudizio sul problema estetico che emerge nella sua autonoma specificità quindi diventa veramente qualcosa di autonomo rispetto alle altre riflessioni di tipo filosofico l'estetica per Kant il giudizio estetico per Kant deve conciliare la soggettività del piacere quindi vedete la sfera sensoriale sensibile soggettiva la soggettività del piacere come criterio di riconoscimento del bello e del rapporto tra esperienza ed opera d'arte con invece la forma universalizzante quindi oggettiva dei giudizi estetici con la loro aspirazione a identificare una ad avere una validità generale e quindi ci si muove sempre tra queste due sfere ma ne parleremo in maniera poi più dettagliata questa è semplicemente un'introduzione di tematiche che affronteremo quindi l'esperienza del piacere è quella che dà origine ai giudizi relativi alla bellezza o alla bruttezza di qualcosa e quindi anche qui nascono due possibili vie da percorrere quella della necessaria soggettività individualità dei giudizi estetici e invece l'universalità l'oggettività tipica dei giudizi conoscitivi e morali e quindi il rapporto anche tra l'estetica e la morale si parlerà nelle in queste lezioni sull'estetica del settecento anche del senso comune il sensus comunis cioè di quella percezione quella specie di sesto senso che consente di percepire in maniera intuitiva il bello considerandolo un fattore attivo nella nostra società e questo senso comune verrà identificato da alcuni con il gusto che cos'è quindi il concetto di gusto la capacità di pronunciare dei giudizi estetici sia intorno alla natura sia intorno all'uomo quindi cercheremo anche di vedere come il gusto il concetto di gusto si evolve nel tempo ci sarà chi come young cercherà di stabilire una una regola parlerà di uno standard di gusto e chi invece come di deroghe dei nidi deroghe porrà l'attenzione sulla mutabilità storica del gusto sulle differenze che appunto il gusto eredita dai differenti contesti culturali e socio ambientali in cui si esercita questa facoltà di riconoscere intuitivamente il bello ci sarà poi anche la ripresa nel settecento di un antico concetto quello di genio ma in una nuova prospettiva non ci saranno più i riferimenti religiosi il genio inteso come qualcosa ereditato da da dio insomma ispirato da dio oppure appunto quei riferimenti che poi diventeranno sono diventati teologici metafisici e sono ancorati ancora ad una matrice tipicamente neoplatonica c'è l'artista genio in quanto un vaso da colmare con l'ispirazione divina ma il concetto di genio invece nel settecento verrà esplorato come un ecco come il depositario dell'intimo potere formante creativo della natura questo fare questo creare questo fare creativo o creare senza regole senza leggi senza canoni ecco questa sarà la genialità cioè chi è in grado di fare di creare senza dover rispettare questi questi vincoli questi lacci canonici e quindi l'intimo può ricreare quest'intimo potere formativo della natura il genio ci dice kant e quel talento naturale quindi innato attraverso cui la natura da la regola dell'arte il genio quel talento naturale quindi innato attraverso cui la natura da la regola dell'arte questa è la definizione di genio che da kant e quindi abbiamo poi questa relazione tra il genius che era lo spirito tradizionalmente protettivo di ogni uomo e l'ingenium che quella disposizione naturale che comporta un'abilità innata quindi genius qualcosa di spirituale innato e l'ingenium che sono le abilità quelle abilità naturali che l'uomo può esercitare il genio è colui che per dono della natura in virtù dunque di una disposizione innata che deve comunque essere in grado di esercitare di sviluppare produce delle opere d'arte belle e questo è il diciamo il prerequisito per la creazione di un nuovo sistema ve lo vedremo verrà codificato il sistema delle belle arti infatti noi passiamo dall'autonomia dell'artista che è una grande una delle grandi conquiste del rinascimento a un vero e proprio sistema delle boart delle belle arti l'opera d'arte si il frutto irripetibile di un genio della creazione di un genio ma è anche qualcosa che è destinato che ha una destinazione sociale ben precisa o per semplice di letto o per pura riflessione quindi è qualcosa di individuale nella nell'atto creativo geniale ma anche qualcosa che ha delle conseguenze poi sulla società e questo sistema delle belle arti viene diciamo teorizzato per la prima volta nel 1746 nel trattato le belle arti ricondotte a un unico principio da un teorico francese charles batto che il primo che unisce poesia musica arti che avevano già una certa dignità con la pittura la scultura e addirittura la danza che hanno considerati invece qualcosa di inferiore in passato rispetto alla poesia la musica la dignità che avevano la poesia la musica perché perché anche qui ci si muove in una nell'ambito di una dicotomia che è insomma antica quella tra utilità e diletto poesia musica pittura scultura e danza hanno come scopo il diletto il piacere la ricreazione del piacere l'architettura e la retorica nel sistema di battuto rimangono ancora ibridi perché architettura con l'arte di costruire e la retorica l'arte di parlare sono un misto tra si muovono ancora tra utilità e diletto e quindi non sono le arti le belle arti le arti del piacere del diletto che devono produrre piacere di letto oppure la riflessione altri pensatori includeranno sia l'architettura la retorica in questo sistema delle belle arti altri ancora contesteranno successivamente la presenza della danza per il suo carattere effimero altri addirittura proporranno il giardinaggio nel sistema delle belle arti insomma è un è qualcosa in fieri che però batto ha avuto il merito nella metà del settecento di codificare per primo nasceranno quindi nuove contrapposizioni da quella tra arti liberali arti servili che ha segnato tutta la classicità fino al medioevo avremo la contrapposizione tra arti belle o estetiche che poi canta ancora dividerà tra arti piacevoli arti belle e arti meccaniche quindi arti estetiche o arti belle o belle arti e arti meccaniche nel 1751 d'Alembert nel suo discorso preliminare all'enciclopedie annovererà tra le beau art tra le belle arti la pittura la scultura l'architettura vedete qui c'è la musica e la poesia quindi non c'è la danza in questo caso ecco c'è poi una polemica che nel settecento aprirà poi altre strade quella tra un pensatore tedesco joan christoph gottshed l'autore del saggio di un'arte poetica critica per i tedeschi nel 1730 e due vi avevo citato dei pensatori dei filosofi svizzeri due appunto pensatori svizzeri e hanno lo stesso nome doppio nome di battesimo ma cambia il cognome ovviamente sono joan jacob bodmer e joan jacob breitinger quindi bodmer e breitinger contro gottshed contro il tedesco gottshed questa contrapposizione è su che basi si esplicita bene gottshed è il sostenitore di una forma di classicismo precettistico partendo dalla dalla verosimiglianza dal concetto della mimesis aristotelica della verosimiglianza ribadisce che l'intelletto deve avere deve continuare ad esercitare una funzione disciplinatrice sulla produzione poetica cioè l'intelletto deve sovraintendere la parte creativa alla produzione poetica per questo si parla di un classicismo precettistico i due svizzeri invece bodmer e breitinger si concentrano su un'altra delle enunciazioni aristoteliche a proposito dell'imitazione della mimesis cioè la mimesis come rappresentazione del possibile e quindi vanno a recuperare la funzione primaria della fantasia la potenza espressiva dell'immaginazione questa volta contrariamente a quello che sosteneva gottshed senza regole e senza precetti e questa proprio la la via indicata dai due pensatori svizzeri bodmer e breitinger e la linea vincente nel settecento perché ci sarà una specie di elevazione alla seconda potenza del principio mimetico dell'arte cioè l'arte non deve essere una mera imitazione della natura ma deve essere limitazione dell'arte classica che quella che si è occupata che identificato che ha stabilito quelli che sono i canoni del bello ideale e capite che questo pensiero apre poi a tutta la riflessione teorica del che porterà il neoclassicismo quindi a winkelmann mens insomma a autori nomi che vedremo poi verso la fine di questa lezione all'inizio della prossima quindi anche qui una distinzione tra i precetti le regole una sistematizzazione classicistica e invece un neoclassicismo che però nasce dalla potenza espressiva dell'immaginazione della fantasia quindi senza quelle regole senza quei precetti che finiscono per codificare il tutto e farlo morire farlo renderlo bloccato prigioniero della propria canonicità invece abbiamo questa specie di elevazione alla seconda potenza del principio mimetico dell'arte quindi non una imitazione di primo grado ma un'imitazione di secondo grado cioè limitazione non della natura direttamente ma dell'arte classica che aveva appunto trasformato la natura in un bello ideale in una bellezza ideale e sulla scorta di questa distinzione nasceranno poi altre distinzioni che vedremo per esempio analizzando la le peculiarità della scultura la famosa scultura dell'aucoonte lessing questo pensatore tedesco distinguerà tra arti spaziali e arti temporali la pittura diventa la regina delle arti spaziali la poesia quella delle arti temporali vedremo anche questa distinzione mentre poi uno di questi pensatori che diciamo agiranno in una sfera più storicistica lerder distinguerà tra la pittura come arte del sogno che ha come senso corrispondente di derivazione la vista e la scultura come arte della verità qui il senso da cui si parte differente del tatto ovviamente allora queste sono così alcune delle anticipazioni su quello che è la sfera dell'estetica settecentesca su quelli che sono i grandi temi della dell'estetica del settecento che poi andremo a a vedere ed è interessante non diamo nulla per scontato per esempio anche il sentimento del sublime che è un altro grande tema del settecento che poi arriverà fino al all'ottocento anche se con accezioni diverse siamo nel settecento dei lumini il settecento razionale per il concetto di sublime è una riflessione oltre i limiti di ciò che è visibile e di ciò che è esprimibile è come se la ragione illuministica avesse percepito riuscisse a percepire la sua insondata ombra e quindi andiamo al di là dei limiti espressivi dell'arte stessa di quelli oggettivabili di quelli razionalmente percepibili ma andiamo a toccare poi quelli che sono i limiti immaginativi del fruitore quindi apriamo ad una sfera che è estremamente moderna perché sapete che quando si passa da da riflettere soltanto su chi crea a una sfera della percezione da parte di chi fruisce l'opera d'arte andiamo poi ci avviciniamo a definizioni che sono estremamente moderne pensate poi al culmine che sarà l'opera aperta di dieco ma insomma non voglio aggiungere difficoltà le difficoltà che sono già presenti adesso andiamo a vedere pensatore per pensatore quelli che sono i grandi protagonisti di questa riflessione quindi riprendendo i temi in maniera più articolata e anche diciamo forse anche più più semplice da memorizzare allora intanto partiamo dal terzo conte di Shaftesbury Anthony Ashley Cooper terzo conte di Shaftesbury un allievo di Londra andinese un allievo di Locke in contatto con i neoplatonici di Cambridge